Si chiama Libere Tutte, è un progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud e prevede un ampio partenariato che vede Arci Salerno come capofila insieme ad altre organizzazioni con le quali collaboriamo da tanti anni su quello che è il lavoro a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento. Le associazioni che collaborano con noi in questo partenariato sono l'associazione Cooperativa Sociale D'Edalus su Napoli, l'associazione Don Tonino Bello su Avellino, Nero e non solo l'associazione Onlus di Caserta e in più anche il Consorzio La Rada e il Consorzio Mestieri su Salerno perché questo progetto va ad integrarsi con una vecchia progettualità con la quale Arci Salerno lavora da un decennio insieme alla Cooperativa Sociale D'Edalus e va a migliorarlo e a approfondire delle azioni che in prima accoglienza è più difficile riuscire ad avere fino in fondo. Si possono fare tante cose, chiaramente il periodo storico e politico è quello che è, è molto difficile in questa fase fare il lavoro che facciamo noi da tanti anni e chiaramente gli italiani si sono molto richiusi su loro stessi e sono diventati meno disponibili a un discorso a favore dei migranti, purtroppo è diventato oggi un fenomeno l'immigrazione, prima era invece una problematica, un lavoro che andava fatto come politiche sociali, un lavoro di integrazione, di collaborazione con popolazioni che arrivavano da altri paesi che dovevano integrarsi e si lavorava insieme sotto questo aspetto. È chiaro che adesso è diventato tutto molto più complesso e spesso noi facciamo una grande fatica quotidianamente perché è una lotta. Libere Tutto è un progetto dell'Arci Salerno con un partenariato molto ampio e ricco, abbiamo in partenariato l'associazione Don Tonino Bello di Avellino, non solo di Caserta, la cooperativa Dedalus di Napoli e il consorzio La Rada su Salerno, consorzio Messieri e l'Arci Salerno. È un progetto volto all'assistenza, all'emissione e all'assistenza e all'integrazione sociale delle donne vittime di tratta. L'Arci da anni, da decenni è impegnata in questo progetto, è un progetto volte al contrasto del traffico degli esseri umani ed è un progetto a cui teniamo molto ed è un progetto a cui siamo arrivati in seguito all'arrivo sulle nostre coste di tantissime donne nigeriane e non solo, giovanissime, molto fragili e vulnerabili che sono state intercettate e trafficate nei loro paesi di origine per essere poi sfruttate durante il viaggio che le ha portate in Italia e poi sono state cadute nelle mani dei loro sfruttatori nell'arrivo nei nostri centri. Libere Tutte vuole dare voce a tutte queste donne, vuole far emergere, vuole dare loro una possibilità di riscatto e di affrancamento e soprattutto abbiamo investito tantissimo sul piano del sostegno all'autonomia perché non si può rendere una donna libera se non gli si danno degli strumenti per potersi liberare.